Superiore il fatto che Venezia nella terza frazione ha segnato tanti che resta a tre punti con la pick and pop di Brooks e in particolare il palleggio di Grenzer spesso è più secondo me un senso di pigrizia difensiva, di disattenzione... Stai mettendo insieme concetti che non sono... che fa fatica stare insieme, un conto è parlare di pigrizia, un conto è parlare di disattenzione, un conto è parlare di errori, cioè prima di fare la domanda magari se te la prepari un pelino pensandoci, ti è venuto a rispondere, sulla pigrizia ti dico subito, non sai di cosa sei parlato, la pigrizia nella mia squadra non esiste, questo te lo posso garantire, sono tutte persone che ci tengono molto, poi è ovvio che fai delle cazzate perché arrivi anche con un secondo di ritardo, perché come forse hai sentito è la nostra quarta partita in otto giorni, più rimbalzando per tutta Europa così, quindi non... No 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 ma hai fatto girare le barre perché mi hai parlato di pigrizia, è la prima come una mancanza di rispetto nei confronti di dei giocatori, ti sto parlando con assoluta sincerità, capisci? a posto grazie